Sì, ho letto il tuo fratello nel boxe. Amore, com'è andata? Io sto aspettando il taxi che mi porti a casa. Però? Però non mi ha avviati. Beh, io sono a Raccale. Sì, lo so. Tu non sei normale. No, pure. Io ho testato a domenica e te ti metti a fare casino con questi tacchi. Senti, io ho 24 ore per imparare a portare questi tacchi. Che devo uscire con un ragazzo. Si chiama Domenico. Dove l'hai conosciuto? Senti, io ho i ragazzi. Senti, io ho i ragazzi. Sicura? Sicura è la morte. Sono altri incontri. Ecco a voi ragazzi. Grazie. Grazie. E a voi. Grazie. E a voi. Comunque si chiama la chiede. Ecco la capa. A vent'anni non è mai stata fidanzata. Però, se non è mai stata fidanzata, il motivo ci sarà. Hai una foto di questa ragazza? Fammi aprire. E lei? Ammazza. Hai capito Domenico? Mi sa che stavolta, Stefano, è quella giusta. Vai. E meno male che volevi diventare suora. Ma che? Ma com'è possibile che non mi siete mai incontrati? Eh, perché rifiutavo sempre. Però adesso mi sento pronta. Come sto? Benissimo. Peccato però che quando mi vedrà, lui mi diterà per tutta la vita. Come immagine di profilo alla foto di mamma. Perché lei quando era giovane era davvero bella. Guarda che lo sai anche tu. Grazie. Ciao, io sono Rachele. E Rachele senza la cappa. Allora. Ciao. Posso sedermi accanto a te? Mi dispiace a te. Ti senti mentito. Io sono questa. E chi era quella ragazza in quella porta? Era mia madre. Comunque se è bella anche te. E non hai nessun bisogno di nasconderti. Ognuno è perfetto a mo' di suo. Comunque. Torniamo al punto di partenza. Io sono Domenico. E tu? Io sono Rachele. Rachele senza la cappa. Rachele senza la cappa. Rachele senza la cappa. Rachele senza la cappa. Grazie a tutti.